ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò vedere questo nuovo smartphone raggede quindi un telefono indistruttibile che ha incorporato anche un telemetro quindi ci permette anche di prendere delle misurazioni grazie ad un raggio laser telefono indistruttibile impermeabile bello da vedere con una batteria che dura tantissimo essendo impermeabile si può anche utilizzare per fare foto subacquee ovviamente vi lascerò anche il link nel primo commento nella descrizione per poterlo vedere su amazon il suo prezzo è circa 300 320 euro andate a dare un'occhiata così vedrete il prezzo esatto ed eventualmente se riesco mi farò dare anche un codice di sconto da associare giù al link adesso mettiamolo davvero sul bancone e vediamo come è fatto iniziamo quindi viene venduto all'interno di questa scatola in cartone all'interno troveremo un caricabatterie il cavo usb per poterlo ricaricare questo accessorio che serve a poter aprire vari sportellini anche se si può fare pure con le unghie ma questo ci agevola nel lavoro alcune pellicole protettive e in basso un manuale di istruzioni e un set di accessori per poter emettere la pellicola protettiva quindi una pezzetta per pulirlo e delle salviettine per poterlo pulire per bene e rimuovere residui di grasso ma guardiamo il prodotto da vicino allora come vedete è graffiato e maltrattato perché ho fatto delle prove lanciandolo in un terrazzo mentre pioveva e quindi lanciandolo questa volta su dei mattoni regolari ha strofinato e si è graffiato in alcuni punti infatti il telefono rugged è un telefono si indisfruttibile nel senso che se cade se viene lanciato viene immerso non accade nulla ma i segni degli urti ovviamente saranno inevitabili in questo caso sono tranquillo perché si tratta della pellicola protettiva sostituendo la tornerà come nuovo ma se dovesse graffiarsi oppure strofinare la parte metallica comunque i segni rimarrebbero in modo permanente quindi il fatto che siano indistruttibili riguarda solamente la robustezza il fatto che il telefono continuerà a funzionare le uniche parti non raggede in realtà dei telefoni smartphone indistruttibili sono il comparto fotografico ed eventuali display nella parte posteriore osserviamolo per bene questo è il portellino per poter inserire la memory card oppure la sim card è ben rifinita con queste viti che danno un tocco anche di aggressività e robustezza questi sono i tasti smart uno serve per dare delle funzioni particolari dell'altro invece per poter lavorare con il telemetro adesso lo vedremo questi invece sono i tasti per alzare abbassare il volume il tasto di accensione spegnimento del display e questo è il lettore dell'impronta digitale tutto il telefono a questa protezione a girare questa cornice in gomma un po più sporgente che lo protegge da eventuali urti e questo in basso è l'altoparlante aprendo questo sportellino si può aprire come ho detto poco fa anche con le unghie troviamo anche l'uscita usb di tipo c sia uscita che entrata perché serve sia per ricaricare il telefono che per poter utilizzare delle cuffie con un adattatore usb di tipo c da questa parte troviamo questo ponticello che serve a collegare il laccetto quindi per poterlo assicurare al nostro polso la telecamera anziché essere posta al centro e possa lateralmente e questo mi piace perché effettivamente a volte al centro può risultare invadente quindi questione di gusti ma in questo caso lo trovo un pochettino più discreto nella parte posteriore abbiamo il comparto fotografico principale come vedete abbiamo quattro fotocamere ognuno ha una funzione differente dalla funzione macro la funzione tele funzionale grandangolare funzione standard questa invece è il flash ovviamente funge anche da torcia quando la tiriamo dall'apposita funzione e adesso vi faccio vedere lo sblocco con l'impronta digitale basterà appoggiare il dito nel lettore e si sbloccherà in un attimo abbiamo già l'applicazione del telemetro aperta ma la vedremo fra un poco guardiamo intanto la sensibilità del display nonostante gli urti l'immersione e maltrattamenti risponde molto bene e allora guardiamo quindi la connessione ad internet e la sua velocità nella navigazione aprendo youtube e guardando un video e allora ragazzi apriamo un mio video questo del laser e guardiamo la sua velocità nella riproduzione anche l'audio apriamo quindi stavo dicendo un video questo è il video dell'incisore laser che vi ho recensito alcuni giorni fa guardiamo come si sente il volume e anche la velocità nel recupero dei dati avanzando velocemente e quelli molto grandi da 40 per 40 che obiettivamente occupano molto spazio allora l'audio si sente bene andiamo veloce allora come avete visto recupera il video immediatamente adesso proviamo anche ad ascoltare della musica anche l'audio effettivamente si sente in modo limpido ok abbiamo visto che per quanto riguarda l'audio la velocità nella navigazione è abbastanza veloce adesso proviamo ad aprire il classico gioco di auto il solito giochino solo per vedere la reattività e il colore insomma la definizione anche durante le applicazioni ok come vedete è reattivo anche il display si vede molto bene pure inclinandolo con questa angolazione riusciamo a vederlo benissimo con qualunque angolazione si riesce a vedere bene allora usciamo da questo gioco perché serviva solo per vedere appunto come si comportasse e andiamo a vedere le altre applicazioni troviamo all'interno come sempre scatola porta attrezzi all'interno c'è un compasso una livella la torcia quindi si accende led nella parte posteriore che funge anche da flash l'end ed ingrandimento che non è altro che uno zoom nella fotocamera all'allarme un goniometro fonometro e podometro vediamone qualcuna come vi ho detto più volte servono solo come riferimento ma non fate tanto affidamento a questo tipo di applicazioni vengono riportati dei gradi in verticale in orizzontale dovrebbero servirci per orientare quadri mensole eccetera poi abbiamo anche altri strumenti per quanto riguarda il livellamento ma vi ripeto sono dei gadget e degli accessori che troviamo in dotazione la radio fm che funziona solo ed esclusivamente quando collegare telecuffie perché fungono l'antenna e tutte le varie applicazioni che troviamo già preinstallate più tutto quello che volete installare adesso guardiamo il telemetro quindi abbiamo questa applicazione che ci permette tramite l'emissione di un raggio laser nella parte frontale di misurare le distanze ma anche di calcolare volumi calcolare l'area il teorema di pitagora eccetera facciamo una rapida prova quindi lo posiziono da questa parte affiancherò anche il misuratore laser della parkside e vediamo quanta differenza c'è vi anticipo che c'è un po di scarto quindi non è molto preciso in realtà però lo scarto quindi l'errore si ripete in modo costante basta calcolare quanto sia la differenza e quindi possiamo avere una misura precisa togliendo quel tipo e lo scarto che abbiamo già rilevato ma c'è da dire che questi misuratori laser si utilizzano più che altro come misurazioni approssimative solitamente per calcolare l'area di una stanza una parete da dipingere super giudiciamo come si fa con il flessometro quando si misura in modo rapido per avere un'idea della distanza e arriva fino a 40 metri per poterlo utilizzare basterà attivare gli infrarossi quindi premere il tastino dopodiché prendere la misurazione non è velocissimo effettivamente guardate abbiamo poca distanza e per misurare 48 cm ha impiegato un po di tempo quest'altro invece è molto più veloce come vedete 50 centimetri quindi abbiamo quasi due centimetri di scarto sono costanti per ogni misurazione anche se misurerete 20 metri avrete sempre questi due centimetri di differenza ovviamente è possibile anche personalizzare tramite il menu se utilizzare l'unità di misura in metri oppure in foot oppure se iniziare la misurazione dalla parte iniziale del telefonino oppure dalla base diciamo che anche questo è un accessorio che in alcune circostanze per lavori di edilizia ovviamente in ambito domestico può tornare utile anche se ripeto non è affidabile al cento per cento e si può utilizzare anche il tastino specifico quindi questo laterale per poter eseguire le misurazioni quindi una volta premuto avremo la misurazione della distanza in questo caso avendolo spostato un poco in avanti misura 47 centimetri e 7 mm ma come potete vedere dalla cronologia delle misurazioni l'ho provato anche per misure più grandi 18 metri quasi 19 5 metri eccetera non ho provato a 40 metri perché non riuscivo nemmeno a vedere dove puntasse il puntino laser che obiettivamente è piccolo quindi a distanza non si vede molto bene però ripeto quando necessario può essere utile per fare qualche misurazione adesso guardiamo anche il comparto fotografico come abbiamo detto poco fa abbiamo la possibilità di scattare fotografie grandangolari quindi premendo su questo tasto riusciremo ad inquadrare un'area molto più ampia oppure lo zoom normale oppure utilizzare lo zoom per inquadrare punti più distanti abbiamo anche la possibilità di scattare delle fotografie macro quindi andando sulla voce specifica potremmo inquadrare fare delle fotografie anche a parti molto piccole per esempio questa batteria della parkside guardate come riesce ad inquadrare da vicino e quindi possiamo vedere pure i granelli di polvere ma guardiamo le fotografie che ho scattato questa per esempio è una foto fatta al tramonto alla valle dei templi e si vede bene sia nelle parti vicine che anche nelle parti distante questo per esempio è un tempio si vedono bene anche le foglie in controluce era una situazione con scarsa luminosità comunque sinceramente non si vede male questo invece è un video sempre scattato nella stessa occasione tempio della concordia ho fatto appositamente questo video perché avevamo la parte illuminata del cielo e poi tutte le altre parti in ombra volevo vedere anche come si comportava passando da una zona luminosa ad una zona buia come vedete in questo caso riesce a regolarsi automaticamente quindi bilanciare il bianco e l'esposizione in base alla luminosità che abbiamo nel punto in cui inquadriamo andiamo ancora avanti fatto anche un paio di foto e video per esempio in questo mcdonald al buio in questo caso c'erano fonti luminose rivolte verso di me e zone in ombra pure in questo caso obiettivamente si vede bene non è il massimo però comunque è una ripresa soddisfacente che in condizioni di scarsa luminosità sia per ricordo insomma per fare alcune foto condividere nei social va bene a me piace questa è una foto grande angolare nella foto grande angolare riduce leggermente la qualità quindi si vede che non è proprio molto bella invece le fotografie fatte con la fotocamera principale si vedono indubbiamente meglio andiamo avanti questa è un'altra foto macro realizzata dopo una giornata di pioggia queste sono delle gocce su alcuni petali e come vedete sia la sfocatura nella parte posteriore che insomma anche la stessa foto macro è venuta bene queste foto diurne pure qua abbiamo una zona molto luminosa e le zone non illuminate direttamente dal sole comunque sono state fotografate con una buona nitidezza questo invece è un video realizzato al centro di un centro commerciale anche in questo caso con luci in particolare quindi in interno eppure in questo caso sia i colori che la luminosità mi piacciono queste sono altre foto sempre realizzate all'interno del centro commerciale sia fotografia grande angolare che fotografia standard pure in questo caso certo la grande angolare a una risoluzione un pochettino bassa come vedete ma la fotografia standard si vede molto meglio anche questo cartellone che era distante comunque si vede bene questa è un'altra foto macro una cerniera di una felpa e basta poi prove fotografiche effettivamente ne ho fatte poche ma quelle che ritengo che siano sufficienti per capire come si comporta questo telefonino adesso andiamo su google e cerchiamo questo stesso dispositivo su amazon quindi vediamo le caratteristiche riportate su internet allora come vedete ha aperto il sito molto velocemente anche scorrendo verso il basso carica le immagini praticamente subito si vede molto bene molto fluido ok andiamo a vedere quindi subito le caratteristiche tecniche intanto è disponibile anche con diverse colorazioni questo di colore regione costa 329 euro cioè il 6 per cento di sconto del possibile applicare un ulteriore sconto del di 20 euro la versione di colore nero avrà lo stesso prezzo invece la versione con la colorazione rossa addirittura 299 euro e non è applicabile lo sconto quindi super giù siamo lì allora guardiamo le caratteristiche tecniche è dotato di un processore helio g 95 octa corda 2.1 gigahertz sistema operativo android 11 il laser che misurare fino a 40 metri una batteria da 8500 miliamp per ora che dura davvero tantissimo e la telecamera della samsung con una risoluzione massima di 48 megapixel in quella principale quando realizzeremo però la modalità ritratto potremmo utilizzare anche la fotocamera che dalla sfocatura che sarà da 2 megapixel ma serve solo per lo sfondo 2 megapixel anche per quanto riguarda la macro e 8 megapixel per quanto riguarda la fotocamera granangolare la batteria come vi dicevo è molto capiente 8.500 miliamp per ora che vi permette sia di ricaricarla tramite cavo usb che ricaricarla tramite modalità wireless e adesso ve lo farò vedere consente un utilizzo fino a 40 ore per quanto riguarda le chiamate 26 ore in stand by e tre quattro giorni per un utilizzo normale la fotocamera principale invece avrà ben 16 megapixel in questa immagine fanno vedere alcune situazioni nelle quali si può utilizzare questo misuratore laser quindi il calcolo con il teorema di pitagora un'area in questo caso di un pavimento oppure il volume di una stanza come vi dicevo una buona memoria per archiviare sia i dati che scaricare le applicazioni quindi 128 gigabyte a disposizione è una ram di 8 giga questa memoria è espandibile tramite micro sd per poter aprire lo sportellino sarà sufficiente aprire tramite questa levetta oppure utilizzando le unghia sfilare e quindi mettere una sim e da questa parte possiamo mettere un ulteriore sim oppure la memory card come abbiamo detto è anche dotato di ricarica wireless quindi posizionandolo su un caricabatterie senza fili si attiverà in automatico la ricarica del dispositivo adesso però guardiamo anche alcuni lanci e alcuni maltrattamenti perché le altre caratteristiche ve le ho già dette negli altri telefonini della doge li condivide con gli altri dispositivi quindi soffermiamoci osserviamo effettivamente qual è la sua resistenza ai maltrattamenti quindi l'ho lanciato su un terrazzino durante una giornata di pioggia e purtroppo essendo un pavimento con una superficie irregolare ha strofinato e si è graffiato sia la pellicola è un pochettino anche la parte intorno allo schermo comunque ha resistito perfettamente agli urti ho fatto più di un lancio e dopo questi lanci l'ho innaffiato con una pompa dal giardino io solitamente prima li maltratto e dopo li bagno perché voglio vedere effettivamente se la loro impermeabilità rimane anche dopo aver ricevuto degli urti ed effettivamente ha resistito ed è impermeabile nonostante i maltrattamenti diamo anche un'occhiata al suo display sotto la luce del sole come vedete anche in una giornata molto luminosa con il sole che colpisce direttamente il display si riesce a vedere purtroppo dalle inquadrature però c'è molto più riflesso di quello che vedevo ad occhio nudo mettendo un pochettino più in ombre in realtà poi si vedeva benissimo e in quell'occasione ho fatto anche delle misurazioni in esterno come sapete questi misuratori laser quando ci sono giornate molto luminose non riescono a funzionare quindi l'ho puntato in un paio di zone in ombra effettivamente ha funzionato però ripeto richiede qualche secondo in più di quello che secondo me sarebbe necessario ma non è uno strumento professionale semplicemente un accessorio che ci permette di utilizzarlo in alcune situazioni nelle quali vogliamo conoscere una distanza e abbiamo la possibilità di utilizzare il telefonino tramite la su applicazioni e tra le varie funzioni è anche il riconoscimento facciale quindi basterà premere il tastino guardare verso il display e il telefono si sbloccherà abbiamo anche il tasto smart quindi questo piccolo tastino premuto una o due volte in base alle impostazioni che decidiamo dal menu svolge diverse funzioni per esempio io con il doppio clic ho attivato la funzione fotocamera subacquea lo premo due volte si aprirà la fotocamera e come vedete in questo caso riesco a riprendere cos'è la fotocamera però subacquea semplicemente disattiva il display perché come avrete visto dalle riprese durante l'annaffiatura con la pompa dal giardino il display è impazzito un pochettino perché l'acqua va a stimolare ciò che solitamente andiamo a stimolare con il tocco del dito in questo caso invece annulla il display e ci dà la possibilità di scattare la fotografia premendo il tastino in alto per esempio del volume in questo caso così non abbiamo la possibilità del telefonino impazzisca sotto l'acqua devo dire che effettivamente come telefono come tutti i telefonini della doge funziona bene è resistente resistente ai urti ricordatevi non è resistente ai graffi perché se andate a graffiarlo con un chiodo se lo fate strofinare come ho fatto io su una superficie regolare tutte le parti metalliche il display insomma tutto ciò che può essere graffiato si graffierà ma almeno il telefono continuerà a funzionare bene ma questo telefonino rispetto al v20 v10 oppure ls 98 del viaggio recensito effettivamente si differenzia di poco qualcosa per quanto riguarda le prestazioni e ovviamente ha in più il misuratore laser se vi piace vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione andate a dare un'occhiata vedete quale colorazione vi piace più ed eventualmente acquistatelo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto